Alimenti scaduti più di un anno fa ma riportanti etichette completamente nuove e la froda è messa in piedi da un commerciante di Andria che voleva mettere in circolazione oltre 500 confezioni di cibi pericolosi per la salute. Ad allertare i carabinieri sono stati alcuni anziani che hanno notato delle anomalie nelle etichette dei prodotti in questione. I militari del NAS di Bari con la collaborazione dei carabinieri della compagnia di Andria hanno eseguito un'ispezione presso la rimedita al dettaglio di prodotti alimentari. Nel piccolo supermarket hanno verificato e scoperto che circa 500 confezioni di alimenti scaduti erano stati rietichettati. Sulle confezioni di pasta, formaggio, salumi, ovetti di cioccolata e biscotti per bambini scaduti anche da settembre 2012 erano state applicate indicazioni con una nuova scadenza impressa con un timbro adatario. Il titolare dell'attività commerciale è stato denunciato per frode in commercio.